Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, torniamo a parlare della vicenda della dottoressa di Pisa, Barbara Capovani, psichiatra di 55 anni, morta nella serata di ieri, domenica 23 aprile, dopo essere stata aggredita e massacrata a colpi di spranga mentre usciva dal lavoro a colpirla un 35enne. I suoi organi sono stati espiantati e donati, un ultimo gesto di grande generosità da parte della dottoressa, era una sua volontà e da parte della famiglia. Una vicenda davvero gravissima che ha scatenato un'ondata di commozione anche nel territorio aretino. Questa mattina un minuto di silenzio presso l'ospedale di Arezzo. Un minuto di silenzio per ricordare Barbara Capovani, la psichiatra aggredita ed uccisa a Pisa da un ex paziente. Anche ad Arezzo i colleghi, come tutti gli operatori dei dipartimenti di salute mentale, hanno sospeso ogni attività per renderle omaggio ma anche per chiedere più tutele. Quello che è avvenuto è comunque un episodio che in ogni modo ci dovrà portare a un cambiamento perché non soltanto in salute mentale ma al pronto soccorso, nei vari reparti all'interno dell'ospedale assistiamo a queste situazioni drammatiche di aggressione al personale sanitario dopo un'annata che è stata quella del Covid in cui venivamo descritti come eroi. Gli eroi forse non ci sono mai stati perché ognuno di noi ha portato avanti il proprio lavoro come sempre nel modo migliore che riesce a farlo, però siamo tornati molto indietro e queste situazioni ci toccano profondamente nella nostra quotidianità. Ci fanno porre tante domande anche sul senso del nostro stare qui in quotidiano e nella trincea dei servizi. Al di là del clamore di oggi, domani probabilmente nessuno più ne parlerà, mentre ci ritroveremo in situazioni difficili. Sì, il più delle volte da soli. E sulla vicenda si è espressa anche la vice sindaca di Arezzo Lucia Tanti, affermando che appunto resta il grande sgomento, il grande dolore per lei e per la sua famiglia, ma anche una seria riflessione su come proteggere i nostri medici e il nostro personale sanitario, su come affrontare la cura delle persone affette da malattie legate alla salute mentale, perché troppe sono le lacune e non ha più senso negarle. Polemica anche la sindaca di Montevarchi, Silvia Chiassai, sembra che alla gruccia scrive Il reparto, in forte sofferenza numerica da troppo tempo, rischi di essere chiuso. Questo genererebbe ulteriori gravi conseguenze a quella fascia della cittadinanza, molto più numerosa di quello che si vuole vedere, è appunto molto molto fragile. Come sindaco, scrive la Chiassai, pretendo una risposta. E con questa foto siamo a parlare invece della vicenda dell'83enne scomparso dallo scorso 15 di aprile. Non aveva più dato sue notizie, si tratta di Bruno Albiani, ritrovato purtroppo senza vita nei boschi dell'Aretino. La famiglia aveva consentito appunto a diffondere anche la sua foto, nella speranza di poterlo ritrovare. L'uomo si era allontanato da casa in cerca di Asparagi, l'ultima posizione conosciuta. Era nel posteggio dietro al cimitero della Chiassa, in prossimità proprio del bosco. Per le ricerche si erano impegnate le squadre dei Vigi del Fuoco, dell'Associazione della Racchetta, della Croce Rossa. Purtroppo, come dicevamo, l'uomo è stato ritrovato senza vita. Aveva colpito anche ad Arezzo negli anni scorsi, adesso è stato arrestato dai carabinieri. Si tratta di un 56enne, sulle sue spalle pendono numerosi precedenti penali. L'uomo avrebbe compiuto furti, rapine e reati legati alla ricettazione di merce rubata in varie città d'Italia, tra cui Caserta, Reggio Emilia, Foggia, Taranto e appunto anche Arezzo. Nel fine settimana scorso è stato un fine settimana di controlli da parte dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Arezzo, soprattutto per prevenire le cosiddette stragi del sabato sera. Complessivamente 10 gli occupaggi dislocati nei punti ritenuti di maggiore criticità. Sono stati fermati 118 tra auto e motocicli e identificate 284 persone. Quattro quelle denunciate per guida in stato di ebrezza alcolica, alle quali è stata anche ritirata la patente. Due gli uomini invece denunciati per il possesso di coltelli. E ancora tre persone, in questo caso tutte straniere, le denunciate per violazione delle normative sull'immigrazione. Apriamo la pagina dedicata al 25 di aprile con questa prima intervista del presidente di Ampi che risponde alle affermazioni del senatore Ignazio Larussa. Perché secondo me è la cultura politica dell'attuale classe dirigente italiana che per anni, anzi per decenni, non ha voluto riconoscere il valore della resistenza e dell'antifascismo come uno dei valori fondanti della nostra democrazia. È il presidente dell'Ampidi Arezzo, Roberto Del Gamba, a commentare ai nostri microfoni alla vigilia del 25 di aprile quanto affermato dalla seconda carica dello Stato. L'antifascismo non è in Costituzione, aveva detto qualche giorno fa il presidente del Senato Ignazio Larussa, un'affermazione che ha creato non poco imbarazzo anche tra i partiti di centrodestra che governano il nostro paese. Dopo l'infelicissima uscita riguardante gli episodi di Via Rasella e qui siamo ritornati su un'affermazione che è gravissima. Cioè non riconoscere l'antifascismo come uno dei valori fondanti della nostra democrazia nel 2023, come dice lei, mi viene da dire inconcepibile e aberrante. Io veramente spero che il 25 aprile, la giornata di domani, serva a ricordare anche a queste persone che noi abbiamo avuto delle esperienze orribili grazie appunto ai nazifascisti e che la nostra terra in particolare è stata colpita da stragi orribili che anche stamani ricordavamo nella cerimonia di dedica di una scultura alle donne cadute qui in provincia di Arezzo. Chi ha fatto in modo che l'Italia potesse rialzarsi da questo baratro nel quale era stata infilata dai fascisti, dai fascisti, diciamolo, dai fascisti, sono stati gli antifascisti e i partigiani che ci hanno liberato. Durante le celebrazioni ufficiali del 25 di aprile davanti al monumento della resistenza saranno gli studenti del liceo musicale Petrarca di Arezzo ad eseguire i brani musicali che ricordano la resistenza dall'inno nazionale a Bella Ciao. La partecipazione di una scuola, in particolare cito nel caso specifico il liceo Petrarca, che mette a disposizione 13 alunni, quindi un'orchestra, una piccola orchestra diciamo, di 13 alunni guidati da un insegnante, darà un tocco di gioventù, un tocco secondo me particolarmente significativo di partecipazione dei giovani. Ecco, domani sera invece, l'altro evento a cui lei faceva riferimento, faremo per la prima volta la proiezione di un documentario, lo possiamo chiamare un documentario, un video, di interviste originali a sette partigiani della nostra provincia, realizzato, queste sono interviste realizzate da alcuni compagni della sezione di Arezzo diversi anni fa, cito in particolare Andrea Berneschi, che sono andati a quel tempo a cercare a casa loro persone che hanno partecipato attivamente alla resistenza, hanno fatto loro, a tutti loro, le stesse domande nelle quali volevano approfondire i temi della loro partecipazione, alla resistenza, alla loro esperienza, quello che hanno provato, quello che è stato il dopo, ecco, hanno raccolto ore e ore di materiale e noi abbiamo fatto un lavoro di, come dire, taglie e cusci, anche grazie a un mio collega insegnante che ha fatto la parte tecnica, e abbiamo ricavato, come dicevo, un video di un'ora e mezzo, due ore, che per la prima volta proietteremo, manderemo in onda, insomma, e trasmetteremo, come vogliamo dire, a chi parteciperà alla serata al Circo L'Aurora, a partire dalle 9 di domani sera, insomma, ecco. Sempre in tema di 25 aprile, a Civitella, in occasione proprio di questo anniversario, le celebrazioni si apriranno con la deposizione, da parte del sindaco Andrea Tavarnesi, delle corone di Alloro, ai monumenti ai caduti, che si trovano nelle varie frazioni del territorio, per poi continuare con il Gran Premio Liberazione organizzato dalla Polisportiva Albergo Oliveto, che attraverso il coinvolgimento di numerosi giovani partecipanti provenienti da tutta Italia, vuole rendere omaggio ai propri caduti, appunto, alla ricorrenza della liberazione. Inoltre, Villa Mazzi a Oliveto sarà illuminata con il tricolore. E questa mattina, presso il Giardino Pensile della provincia di Arezzo, una statua che ricorda il sacrificio delle donne durante la Resistenza. Sono ispirato a realizzare, appunto, una statua che identificasse questo giardino e soprattutto a chi è stato intitolato. Queste 172 donne, l'idea principale era di fare una targa bella, una scritta con la dedica, però, secondo me, era limitativa, perché turisti, stranieri, bambini, un'immagine che rappresenta queste 172 donne era più comprensibili a tutti. Gentile ma forte. Gentile ma forte, sì. Una scultura dedicata alle donne cadute nella lotta di liberazione dal nazifascismo, un'opera che si inserisce all'interno del Giardino Pensile del Palazzo della provincia di Arezzo. Lo vediamo, c'è l'essenza, dunque, di queste 172 donne, noi abbiamo, in qualche modo, riconosciuto, intitolato qualche anno fa, proprio questo giardino, sul tema della resistenza. La resistenza, che non è solo quella fisica, naturalmente, alla guerra, ma anche la resistenza logistica, nel senso, nel dare aiuto ai partigiani, ai morti partigiani, in quel periodo. Un omaggio, alla vigilia del 25 aprile, a tutte le donne della resistenza e al contributo femminile alla liberazione. Hanno vissuto nella resistenza il loro riscatto, dal fascismo e dalla subordinazione alla casa e alla famiglia, in qualche modo, perché anche la famiglia è stata, in qualche maniera, sradicata, poi, e le donne hanno voluto una famiglia diversa, un rapporto diverso con gli uomini, quindi è stato un movimento che ha rigenerato tutti, le donne e gli uomini, perché poi, quando si muovono le donne, sommariamente, cioè, non sommariamente, indiscutibilmente, vengono mosse anche gli uomini, perché ci muoviamo insieme. Questo 25 aprile, giornata ovviamente festiva, le scuole, come sappiamo, sono chiuse, sono tantissimi turisti che hanno affollato le strutture ricettive dell'Aretino e stanno affollando in questi giorni, in queste ore, appunto, il centro di Arezzo. C'è da ricordare che su iniziativa del Ministero della Cultura l'ingresso, proprio nel giorno del 25 di aprile, ai musei, ai parchi archeologici e a tutti i luoghi della cultura è gratuito. Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli lo ha ricordato così. Alessandro Ghinelli, alessandro Ghinelli, è con questo video emozionale che il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, ha ricordato in un post l'iniziativa prevista per il 25 aprile da parte del Ministero della Cultura. Sarà infatti possibile entrare gratuitamente in tutti i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura. Alessandro Ghinelli, Nel sito museiarezzo.it tutte le informazioni e le mappe. Una notizia di politica Laritino Marco Donati, vicepresidente di Alleanza Civica del Centro Italia e alla nomina è arrivata nello scorso fine settimana durante un convegno che è stato ospitato ad Orvieto. Si tratta di una rete di 80 liste civiche federate radicate in Umbria, Toscana, Marche e Lazio. Tanti temi affrontati dal regionalismo all'autonomia differenziata partendo dalla considerazione che il dibattito sull'Italia centrale e le sue carenze infrastrutturali ad oggi non è mai decollato. Tra i tanti interventi è anche quello di Letizia Moratti. Un'intervista a spettacolo così Ciccio Graziani svelerà alcuni retroscena nei dietro le quinte così ci ha detto di quel mondiale storico del 1982. Il ricavato di questa iniziativa andrà in favore del Calcit. Uno spettacolo teatrale dal titolo Io, Pablito e Berzot e gli altri ragazzi dell'82. Così Ciccio Graziani da Aretino porterà sul teatro Petrarca alcuni aneddoti inediti di quel mondiale dell'82. arriverà ad Arezzo anche la coppa originale conquistata dagli azzurri in quell'anno così speciale. Il ricavato di questo spettacolo andrà interamente al Calcit. L'aspetto primario è proprio quello di poter fare uno spettacolo che possa piacere ma che nello stesso tempo abbia una finalità interessante che è come quella di donare tutto l'incasso tutto ciò che abbiamo raccolto a livello finanziario alla nostra associazione al Calcit che noi aretini in modo particolare ma credo anche tutta la provincia ed altre realtà vogliono molto bene perché poi hanno all'interno questo progetto scudo che è l'assistenza domiciliare per i malati terminali oncologici e vi posso garantire l'ho vissuto sulla mia pelle con mia suocera sono dei ragazzi e delle ragazze spettacolari. Ringrazio il presidente Gravina perché quando gli ho chiesto se era possibile in via eccezionale avere la coppa qui al teatro in maniera che la gente che verrà potrà vedere quella vera quella reale quella che abbiamo vinto quel luglio a Madrid penso che sia un'attrazione interessante anche quella per la gente. Come si fa a comprare un biglietto a prenotare? Dunque intanto possono venire presso la segreteria del Calcit che siamo aperti dal lunedì al venerdì se no possono telefonare al Calcit possiamo fare la prenotazione e dare immediatamente l'assegnazione del posto perciò se basta trepronare il Calcit e si trovano tutte le spiegazioni. Apriamo una lunga pagina sportiva Larezzo torna dalla trasferta contro il Tau Alto Pascio con una sconfitta addirittura 5 gol a 0 sentiamo allora come è stata commentata questa partita dai vertici a Maranto. I ragazzi si sono preparati sì è vero abbiamo festeggiato fino a martedì mercoledì però insomma l'attenzione nei allenamenti c'è stata anche questa settimana comunque il fatto è che a livello numerico giocare in 10 contro 11 quasi tutta la gara ha influito poi in maniera pesante anche sul risultato finale è normale che l'atteggiamento non è quello giusto l'unica cosa che mi rinfranca è che sia arrivata una bella batosta oggi perché la stagione non è assolutamente finita abbiamo l'occasione di riscattarci sia nelle due partite che restano ma soprattutto nella brusquedetto al quale abbiamo già detto ragazze che teniamo tanto quindi sarebbe stato molto peggio se questo fosse stata l'ultima giornata della stagione così non lo è e è l'unico aspetto positivo della giornata di oggi con queste due settimane avevamo detto insomma che c'erano queste due partite prima di Poggi Bonzi poi non lo so magari prima del 7 8 maggio sicuramente lo faremo per me è il nostro allenatore poi si vedrà le richieste che potrà avanzare lui perché noi abbiamo già fatto un accordo lo scorso anno quando siamo venuti qua non è cambiato assolutamente niente non salto anche in termini di progettualità ma soprattutto per quello che si è realizzato nel senso che tutto quello che francamente ci siamo detti all'inizio della stagione si è poi verificato io sto parlando in termini di Pontà della Rosa in termini di strutture non ci è mancato assolutamente niente quindi non so quali sono i motivi per cui magari uno possa metterlo in dubbio però francamente a presti motivi io lo ascolterò siamo amici non c'è nessun problema abbiamo iniziato ero un trentissimo il migliore dei modi abbiamo sbagliato un gol e mezzo direi anche due belli belli la prima volta sono finiti di qua ci hanno fatto poi poi le mani in dieci in quell'episodio vabbè poi gioi tutta la partita in dieci è chiaro è mollato mentalmente dopo i due a zero in dieci è mollato mentalmente è una cosa brutta è un mezzo fallo in mezzo al campo un mezzo fallo in sé c'è un tutto fallo insomma però lì non devi prendere espulsione non devi prendere espulsione nel limite fai far gol fai due a zero rimaniamo un undici vediamo prendi l'espulsione rimani in dieci due a zero è persa è chiaro poi un'altra squadra si mette lì bassi e finisce due due a zero noi invece la nostra abitudine è tutta un'altra anche in inferiorità andiamo e riprendiamo le ripartenze però è chiaro in grosso manco non c'entra niente la inferiorità e poi hai mollato mentalmente è brutto le ragazze dell'Arezzo Calcio Femminile invece portano a casa una vittoria sentiamo l'Arezzo Calcio Femminile infila la terza vittoria consecutiva in campionato e batte due a zero il Trento al Comunale grazie ad una doppietta di Costanza Razzolini sempre più capo cannoniere della squadra Amaranto l'obiettivo dei dieci gol è stato raggiunto adesso ci mettiamo sempre un obiettivo sempre più alto per alzare l'asticella e mantenere sempre alta la concentrazione 15-20 dopo la vittoria interna con il Chiavo e quella in trasferta sul campo della Sassari-Torres arrivano dunque altri tre punti fondamentali in Chiave e Salvezza dopo una partita quella con il Trento ma in discussione oggi è un risultato importante era necessario proprio perché ecco quest'anno avevamo veramente bisogno di questa svolta e finalmente è arrivata la squadra merita merita questo risultato e non solo oggi ma anche in altre occasioni però per alcune circostanze non avevamo chiuso con i tre punti ecco queste ultime tre partite rappresentano un po' invece i valori della nostra squadra l'Arezzo calcio femminile sale a 26 punti in classifica mettendo ben 7 punti di distanza dalla zona rossa le ragazze sanno che c'è bisogno di fare tanto sacrificio di correre di rincorrere di lottare di fare tutto quello che serve per ottenere un risultato così importante e perciò ancora lunga lunghissima dobbiamo rimanere sul pezzo e poi quando sarà finito e quando il risultato sarà ottenuto con certezza allora ci potremo rilassare e godere questi momenti le ragazze a Maranto infine sono scese in campo con un segno rosso sul volto e lutta al braccio un messaggio di vicinanza a tutte le donne vittime di violenza la società qualche giorno fa aveva anche partecipato alla fiaccolata in memoria di Sara Brunetta le due vittime del duplice omicidio di via Benedetto Varchi come ACF Arezzo abbiamo voluto aderire a questa iniziativa per ricordare Sara Brunetta due donne di Arezzo che sono state vittime di femminicidio in questi ultimi periodi siamo sempre state vicine a queste tematiche anche collaboriamo anche siamo vicine a Pronto Donna a tutti questo tipo di associazioni siamo state anche mercoledì alla fiaccolata perciò questo simbolo per noi è importante abbiamo fatto anche la foto alla panchina rossa per essere sempre vicino a questo tipo di tematiche vittoria anche per la primavera dell'Arezzo calcio femminile che ha vinto il campionato con due giornate di anticipo e dunque vola nella massima serie le invincibili di mister Leone appunto hanno festeggiato con due giornate di anticipo e con nessuna sconfitta in 16 gare sconfitta invece per i colori amaranto questa volta del basket sentiamo si ferma contro lo spezia la corsa dell'Ames scuola basket a Rezzo dopo sette vittorie consecutive parte forte il quintetto di coccio evangelisti che tiene a ritmi alti grazie ad un ispirato fornara la reazione degli ospiti accorcia poi fino al 25 a 17 di fine primo quarto l'Amen continua determinata nel secondo parziale arrivando anche ad avere 15 punti di vantaggio ma lo spezia con pazienza comincia a rimontare al rientro dagli spogliatoi la partita cambia totalmente inerzia alla terza sirena il punteggio è in parità quota 67 gli ultimi 10 minuti di gioco vedono l'Amen tenere qualche lunghezza di vantaggio prima di subire il definitivo sorpasso Ligure l'Arezzo prova a reagire ma non è precisa gli ultimi secondi servono per fissare il punteggio sull'89 a 96 finale con questo risultato l'Amen chiude il settimo posto questo combattuto campionato da sabato inizieranno i playoff dopo la SBA affronterà in semifinale Lucca in una serie al meglio delle 5 partite la vincente si giocherà la promozione con la squadra che passerà il turno tra Prato e Mensa sana a Siena purtroppo è successo la stessa cosa che è successa a Alto Pascio cioè che stacchiamo il cervello e non riusciamo a ricollegarlo la verità è che noi non abbiamo giocatori come hanno la Spezia come ha la Spezia come Sescus e Balciunas che ti risolva le partite da soli dobbiamo essere sempre connessi collegati fra di noi guarda c'ho il piacere che sia successo prima dei playoff in modo che ritorniamo a lavorare con un diverso atteggiamento perché secondo me questa settimana non ci siamo allenati bene infatti si è visto in campo che alla prima di Fiorta poi non abbiamo saputo reagire il primo tempo abbiamo dominato la partita abbiamo giocato in difesa molto bene molto brave contro una squadra piena di tiratori secondo tempo un po' se le ha aperto il canestro a loro un po' per per disattenzione nostra per un po' di disconcentrazione però niente bravo loro complimenti hanno fatto 100 punti lì è dove noi dobbiamo fare attenzione e non succede niente il nostro premio non era oggi non avevamo nessun premio di prendere oggi quindi dobbiamo essere tranquilli alzare la testa eravamo in forma e continuiamo in forma il nostro premio lo volevamo prendere fra un mese e un mese e mezzo quindi tranquilli bravo loro come ho detto complimenti hanno fatto un molto buono secondo tempo a lavorare in settimana e a mettere la testa in playoff che è il nostro oggettivo ed infine nell'ultimo servizio dedicato allo sport sentiamo come è andata sul fronte del volley Arezzo quindi pallavolo vittoria in trasferta per il volley Arezzo contro Cascine volley Empoli nonostante il risultato dell'andata in casa dell'Arezzo è stata una partita a senso unico in favore della formazione rosso-blu l'Empoli nella propria palestra non aveva mai perso contro nessun'altra squadra il primo set si apre con un buon ritmo di Capitan Rossi e i compagni che riescono sin da subito a mettere in difficoltà la ricezione del Cascine chiudendo il set senza particolari difficoltà nel secondo e terzo set si ribalta la situazione la formazione avversaria cresce in fiducia in prestazione annullando ogni offensiva della formazione aretina portando il risultato sul 2-1 in favore della squadra di casa il volley Arezzo non può permettersi passi falsi e lo sa il quarto set ritrova compattezza e lucidità necessarie per riprendere in mano la partita e si aggiudica il set per un parziale di 25-22 il quinto e ultimo set vede entrambe le formazioni rispondersi colpo su colpo ma la voglia di vincere degli aretini è troppo superiore la vittoria rosso-gru per 15-1 sancisce alla fine della partita di oltre due ore riuscendo a despugnare un palazzetto proibitivo per tutte le altre squadre dopo i dovuti festeggiamenti la testa è già indirizzata verso Certaldo uno scontro diretto cruciale della stagione per l'accesso alla Serie C è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per l'ascolto e arrivederci grazie per la visione